No, te prego, vuoi comprare, vuoi comprare No, no, te prego Vuoi comprare E' arrivato Babbo Natale Aspetta, aspetta che arriva, aspetta che arriva gente Dai, aspetta, 5 euro, 10 euro, mi raccomando No, chiudi, chiudi, chiudi Vuoi comprare, vuoi comprare, 10 euro, chi offre che più Ma riprende Oh, dai, eh Eh, barca 2 Vamo 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 no no le prego Oh, e facciate come fai? Oh, 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 oh Come un attimo il sciacolo ma c'è il primo va bene lo ma piace mi ha messo qui a farmi oh ma sta giudando è incantato è troppo veloce Monica Monica di qua vieni a comprare 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 bravo faccio una con você como o quanto o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.